Una mostra su un personaggio vivente che anche nelle ultime ore, negli ultimi giorni continua in questa sua opera di divulgazione della propria esperienza personale. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Piero Terracina è stato deportato a Auschwitz quando aveva 15 anni, lui è uno dei tanti ebrei romani che è stato vittima del rastrellamento e insomma a un certo punto della sua vita ha deciso di rompere il suo silenzio e di cominciare a raccontare la sua storia. Lo fa soprattutto con i ragazzi, nelle scuole, ma non soltanto insomma. Diciamo, com'è nata l'idea di questa mostra all'interno dell'istituto con la collaborazione immaginiamo proprio di Piero Terracina? Allora la mostra è nata che io come giornalista tedesca ho fatto un servizio, un feature di 30 minuti in Germania nella radio di Piero Terracina e lì ho capito che non basta, voglio fare un libro e lo voglio far vedere ai tedeschi e di questo libro poi è nata questa mostra che abbiamo detto la dobbiamo far vedere anche a Roma. Certo. La città di Piero Terracina è al Goethe Institut il posto migliore. Che è il modo tra l'altro migliore per ricordare. Faceva Federica riferimento alla differente attitudine con la quale storicamente la Germania ha fatto un po' i conti con il proprio passato. Secondo te quali sono le differenze rispetto al nostro paese? Qual è forse l'errore che si è commesso vedendo anche quello che è accaduto in questi giorni qui a Roma nella nostra città rispetto a quel periodo storico? Forse perché siamo stati più cattivi e purtroppo lo devo dire, è nato tutto lì e certamente che uno sente il bisogno veramente di reagire molto più intensamente. Quindi è un senso di colpa che è ancora piuttosto diffuso, almeno in certe generazioni tedesche, della cultura tedesca. Questo non lo so, io l'ho sentito fortissimo soprattutto quando sono venuta a vivere a Roma, ho conosciuto, mentre facevo questa fiaccolata, Piero Terracina e lì ho capito che io come tedesca ho un ruolo diverso e non è facile, soprattutto quando stai fuori del tuo paese. Lì non lo so se è così. Intanto come è andata? Arriva questa giornalista tedesca, bionda, molto tedesca, con gli occhi azzurri e si avvicina a Piero Terracina e dice facciamo una cosa insieme, insomma, come ha reagito? Sì, allora io l'ho visto da lontano in questa fiaccolata, ho pensato subito questo è uno che sicuramente ha sopravvissuto e ci voleva un anno prima che io prendevo coraggio di bussare e dire io sono una giornalista e lui è stato gentilissimo. Questo è stato per me veramente un'esperienza particolare e indimenticabile, lui ha detto ah vabbè facciamo questa intervista, venga a casa mia e io ero ancora nuova a Roma, mi sentivo molto sola e lui era gentilissimo. Poi ha raccontato, raccontato e abbiamo pianto tutte e due, tantissimo insieme. Rispetto alla mostra in che modo tutto questo viene poi raccontato al pubblico? Attraverso dicevamo le fotografie, attraverso la possibilità di vedere questo documentario e poi cos'altro? Allora l'idea era di far vedere Piero Teraccina nella sua vita adesso, la gioia della vita anche nella sua città, la città dei nonni, dei bisnonni, questa era l'idea non di raccontare solo questa storia tristissima ma anche farlo vedere proprio che vale la pena sopravvivere e stare lì in questa sua città e poi l'altro è lo vediamo, nella mostra vediamo tante foto bellissime foto di Georg Pöhlein, un fotografo molto noto in Germania, Piero nella sua città al Pantheon, nel ghetto, anche a casa sua e in più ci sono dei testi che si possono leggere persone che hanno scritto a Piero Teraccina lettere, un testo bellissimo di Veltroni che parla di lui come amico, un testo molto molto intenso e bellissimo di Riccardo Di Segni e anche piccoli brani del libro di Erika Silvestri che ha scritto questo libro il commerciante di Bottoni e di questo avevamo preso anche alcuni momenti. E c'è anche una parte per così dire drammaturgica interpretata da un'attrice immaginiamo, insomma ecco perché fare questa scelta, perché aggiungere questo e non lasciare solo le parole in prima persona di Terracina? Io volevo raccontare la storia degli ebrei, non solo di Piero, ma proprio della storia degli ebrei romani, cosa è successo, mettere in prima pagina o prima fila Piero Terracina come esempio, ma il resto volevo raccontare della deportazione degli altri, cosa è successo con questi 50 kg d'oro che dovevano consegnare, eccetera eccetera. Questo è un ufficio che ho fatto per la Germania e in Germania non sanno tanto quello che è successo qui a Roma. La mia intenzione era presentare la storia di Piero, ma anche proprio quello che è successo qua a Roma. Ma insomma intanto questo lavoro come è stato accolto quando lo ha presentato in Germania Andrea Pomplum? Quelli che l'hanno sentito molto molto bene, erano commossi veramente, anche la mostra che abbiamo fatto non mi sono aspettata così tanta commozione dopo tutto questo tempo, pensavo anche dai giovani, veramente i giovani sono venuti, volevano fare la foto con Piero, erano commossi completamente ed era fortissima questa esperienza vedere Piero che è stato la prima volta in Germania, l'avevamo convinto non era facile non lui non stava molto bene lì, ma diciamo era bello alla fine, era molto bello perché ha raccontato la sua storia con l'aiuto di Veltroni che veramente ha dovuto aiutare perché lui ha perso poi la voce. Si è rotta la voce dalla commozione. Ma veramente, ma vedere, c'erano anche tanti italiani, c'erano ebrei, ebrei tedeschi, tantissimi dall'università e tutti insieme in un ambiente bellissimo con una musica, hanno giocato membri delle bambega sonfonica, pezzi composti ad Auschwitz, era molto commovente e veramente forte. Speriamo sarà, anzi sarà sicuramente così anche nella mostra che il 4 febbraio inaugurerà il Goethe Institut qui da noi a Roma. Gli orari della mostra come saranno possibili? Che orari saranno? Gli orari di visita? Ogni giorno o dalla mattina fino alla sera. Il martedì dalle 13, gli altri giorni invece dalle 10 del mattino. Perfetto. Benissimo, la mostra ovviamente è ingresso gratuito, noi ringraziamo. E l'abbiamo scelto proprio lì perché lì alla biblioteca europea di fronte al Goethe Institut dove sarà la mostra, l'abbiamo scelto perché lì vengono tanti tanti giovani ed è quella la cosa importante. Certo. Certo e questo è anche lo spirito della giornata della memoria, così dovrebbe essere. Grazie allora ad Andrea Pompun per essere stata con noi, per averci presentato questa mostra. Alla prossima. Grazie ancora, a presto. Grazie ancora, a presto.